Vedeci, si può far crescere la barba, si può ricorrere alla chirurgia plastica, ma gli occhi non si possono cambiare. E Mancino, pittore dilettante, alla stessa età, stessa altezza e ha perfino lo stesso cane. Sa che i cani non vivono così a lungo, vero? Non sono un idiota, lo so che non è lo stesso cane, ma l'ha preso comunque della stessa razza. Quello non era per lei. Le dirò una cosa, tutti i mercoledì qui in ambasciata ospitiamo un gruppo di sostegno per i sopravvissuti, è di aiuto per fare i conti con il passato, per buttarsi alle spalle... Silenzio! Voglio parlare con qualcun altro! In questo ufficio la funzionaria capo sono io. Eppure non può fare niente! Vi assicuro che non faccio niente solo quando non c'è assolutamente niente da fare. Quando non abbiamo prove concrete e tangibili. Le sue informazioni vaghe, le foto di un uomo con gli occhiali da sole che nemmeno somiglia a Hitler, non sono sufficienti neanche per un'indagine preliminare. Queste non sono concrete? Non può esserci niente di concreto perché il suo vicino non è Hitler, dato che Hitler è morto! Il mio vicino Adolf, dal 3 novembre al cinema.